La città degli angeli a Cortona saluta. Gli angeli sono per definizione gli intermediari tra Dio e l'uomo e sono sempre stati visti in questa foggia, non solo dalla cristianità e dagli ebrei, ma in qualche modo anche dal mondo che li aveva preceduti e che li aveva accompagnati, cioè quello del paradesimo. Gli eventi natalizi sono terminati, l'iniziativa ha avuto comunque successo. Sicuramente sono stati fatti tanti spettacoli, tante iniziative, un pubblico di bambini che è stato caldamente arricchito di iniziative e sicuramente ci portiamo a casa, una bellissima esperienza e speriamo appunto che sia piaciuta al pubblico sia dei cortonesi che dei turisti. Il bilancio è positivo, chiaramente il Covid ha influito molto anche sui numeri dei turisti, tuttavia abbiamo tenuto un buon andamento, ma soprattutto gli spettacoli e tutto il contesto è stato meraviglioso. Sicuramente da ripetersi, sperando che il Covid non ci sia già più. Al di là comunque della pandemia il turista ha potuto apprezzare anche le varie location della città, anche i luoghi storici e quindi diciamo che tutto l'itinerario è natalizio.